E poi pensavo a un qualcosa che ho pensato mentre ieri andavo a trovare mio nonno, a dare le condizioni a mio nonno, a vedere mia nonna morta praticamente, ad andare a trovare a casa per l'ultima volta. Ho dato anche un bacio per l'ultima volta, i miei fratelli invece non sono riusciti, mia sorella è andata al funerale e non è riuscita a vedere mia nonna, purtroppo per l'ultima volta sul letto. Comunque dicevo che ho pensato mentre camminavo e c'era la folla, quindi camminavo per le strade e c'era la folla, in realtà un pensiero che ho sempre pensato, che riguarda il fatto di come io mi sento un intruso in mezzo alle folle, perché le persone sono tutte omologate in mezzo alla folla, io e io, ma questo è anche un qualcosa di filosofico che mi ha, diciamo, un pensiero sviluppato anche grazie al percorso di laurea in filosofia che ho fatto, libri studiati, eccetera, lette e studiati. Quindi, sì, di quanto mi sento distante, insomma, dalle folle, di quanto le soffra, perché appunto avverto questa differenza di pensare, anche di camminare, perché anche il camminare è un atto filosofico in realtà, qualcosa di molto più complesso di quello che si pensi solo a livello fisico. Quindi dicevo, sì, di quanto io avverto questa distanza tra me e tutte le altre persone, ma questo comunque anche in generale, nei confronti proprio della vita, non solo mentre cammino, ci sono le folle, eccetera. E spero che anche qualcuno condivida questo tipo di visione, di avvertere le stesse sensazioni, diciamo così. Ovviamente questa, diciamo, questo tipo di folla, di ieri ampliata da questa corsa al regalo del Natale, che da tempo non fa altro che fare danni, insomma, il Natale dovrebbe essere, diciamo, una festa di condivisione, un momento veramente in cui si sta, ci si vuole più bene, ma in realtà non è mai così, anche perché del resto sono persone che vediamo poi, diciamoci la verità, è tutta apparenza, il resto della vita è sempre una questione di apparenza ed essenza, e in teoria sono una festa in cui ci si vuole più bene, perché comunque sono persone che poi vediamo solo in queste occasioni qui, e sono persone, anche se sono parenti, ma non c'è assicca proprio niente, perché sono persone che poi, insomma, ci vengono a trovare una volta ogni cent'anni, appunto, e quindi mai nel resto, tutto il resto del tempo, dell'anno, per cui, per cui a me sta sempre di finzione, ma tutte le feste poi in fronte e conti sono così, tutte, tutte le cose della vita sono false, io purtroppo sono uno scettico assoluto, il resto, la mia frase di presentazione su Facebook è niente è come sembra, tutto è finzione, tutto è un'illusione, ovviamente sono di un pessimismo cosmico, ma mi rendo conto che la mia visione può essere anche non condivisa, ma per carità, io la vedo così.